M. Riezzo, passare da una prestazione come quella dell'Aquila, soprattutto nel secondo tempo, ottima da parte del Chieti, a quella di questo pomeriggio, francamente, che spiegazione si è data? Io penso che bisogna approcciare diversamente dei partiti, ho detto ai ragazzi che oggi avrei preferito beccare anche il Real Madrid, perché sappiamo che dal punto di vista mentale la partita la prepariamo in un certo modo, però l'approccio di oggi non è stato quell'approccio che piace a me, è quello che è stato anche nel primo tempo della partita di domenica scorsa all'Aquila, perché per 22-23 minuti anche nella partita lì non abbiamo mai rischiato nulla. Oggi purtroppo su errori nostri, errori evidenti di attenzione, purtroppo abbiamo fatto sì che l'atletico passasse in vantaggio e poi il raddoppio all'ultimo secondo del primo tempo che ti taglia le gambe, quello per esempio sono cose che a me mi fanno arrabbiare. Bisogna ripartire dagli errori fatti adesso, non dalla prestazione, dagli errori fatti perché non devono essere più commessi, perché se vogliamo fare un determinato tipo di campionato, se no siamo lì e saremo altalenanti e questo non ci permetterà sicuramente di fare un campionato che merita questa piazza. Visto le tre partite in 7-8 giorni ha fatto un discreto turnover, rifarebbe tutte le scelte? Sì, ma io ho fiducia della squadra in toto, è normale tre partite in 7 giorni, qualcuno doveva riposare. Le scelte, sai, fai delle scelte poi magari dopo è facile anche pensare e dire e fare qualcosa di diverso, però no, non posso attribuire a chi ha sostituito, a chi ha giocato la partita di domenica, colpe per quello che oggi siamo stati tutti quanti negativi, approccio bruttissimo della gara e questo ci deve servire da lezione. Seccartini, davvero complimenti, pronto riscatto dopo lo stop interno con il Termoli, non era facile, ma voi siete entrati in campo come squadra col piglio davvero giusto? Grazie per i complimenti, ma li estendo alla squadra, il merito dei ragazzi, i protagonisti sono loro, è il piglio giusto entrare dentro questi stati con questa cornice di pubblico, per noi è un sogno, quindi riusciamo sempre a dare qualcosa in più. In casa magari avevo detto già domenica che era una trappola perché magari il silenzio a noi ci rilassa e la percezione del pericolo poi ci frega perché le prestazioni da novembre quando sono arrivato io le abbiamo sempre fatte contro chiunque, abbiamo un'identità forte, abbiamo coraggio, abbiamo idee, abbiamo principi e li mettiamo in pratica. Poi oggi è uscita fuori una partita vera, nonostante fosse una partita strana perché è una partita di 70 minuti, però diciamo che la soglia dell'attenzione in questi palcoscenici a noi ci fa bene. Grazie a tutti.